Invitiamo il commissario a fare un giro per questa zona bellissima di Catania che oggi, direi da ieri e dall'altro ieri, da parecchi anni, che è completamente nell'abbandono totale, un degrado che i residenti della zona assolutamente non meritano e che sono stati elusi da anni di avere la riqualificazione del centro, parlo di Corso Marte Italia Libertà, i progetti presentati rimasti nel cassetto e poi se noi andiamo lì a fare dei giri, venditori ambulanti da tutte le parti, gente senza autorizzazione che vende, che fa di tutto e di più, un quartiere che è abbandonato totalmente e che la sera diventa invivibile, io stesso ho fatto dei giri insieme ad alcuni amici la sera ed è veramente pericolosissimo. Illegalità, incuria, degrado, una fotografia imbarazzante, quella che arriva ancora una volta da Corso Sicilia, quello che invece sulla carta dovrebbe essere uno dei salotti buoni della città. L'ennesimo appello arriva dal comitato Romolo Murri, che questa volta si rivolge al commissario straordinario del comune di Catania, Federico Portoghese, perché si adoperi quanto prima per dare il via ad interventi di riqualificazione di quella che una volta era la city del capoluogo etneo e imprimere una svolta anche alla realizzazione delle opere previste in Corso dei Martiri della Libertà. La situazione allarmante spiega ai nostri microfoni il presidente del comitato, Vincenzo Parisi, e l'amministrazione deve fare il possibile per garantire almeno un costante lavoro di pulizia e manutenzione e un servizio di controllo da parte delle forze dell'ordine. Basterebbe rispolverare progetti che esistono da anni e avviare un'opera di risanamento che preveda anche l'assistenza ai tanti senza tetto che trasformano marciapiedi e portici in bivacchi di fortuna, persone che vanno aiutate a condurre una vita dignitosa. Esistono i progetti, 15 anni fa fu presentato il progetto di riqualificazione di Corso Martiri della Libertà e invece è rimasto ancora lì. Allora, amministrazione, abbi il coraggio se non ce la fai e perché puoi avere delle influenze esterne, nomina, come è successo a Genova, ecco l'esempio di Genova, il ponte di Genova che è stato fatto, miracolo italiano, nella realtà il miracolo non è italiano perché nelle altre parti del mondo viene fatto con ordinarietà, nominiamo un commissario al di sopra delle parti, gli diamo il mandato e gli diciamo entro sei mesi portavanti i progetti che sono già pronti. Bene, riqualifichiamo un quartiere, significa realmente prendere i progetti che esistono e farli diventare cantierabili e rendere, ripeto, finalmente vivo e lucido un quartiere che fino a oggi è stato bello ma che fa schifo, veramente, veramente penoso.